Ieri un missile attribuito ai russi ha colpito l'ospedale pediatrico di Kiev uccidendo una trentina di persone almeno la metà bambini. Oggi tutti i giornali del mainstream riportano la notizia in prima pagina. Il Corriere, missili russi sull'ospedale dei bambini, orrore a Kiev. Il resto del Carlino, missili sui bambini, cittadini in fuga dopo l'attacco che ha colpito l'ospedale. La Repubblica, stesso titolone ad effetto, missili sui bambini, l'Occidente, crimine disumano. Qui addirittura l'Occidente è diventato una entità pensante che esprime una sua precisa opinione, uguale per tutti ovviamente e la decide la Repubblica. Poi c'è la stampa che addirittura interpreta l'episodio come un messaggio di Putin all'Europa. Cioè, secondo la stampa, Putin ci sta dicendo verremo e uccideremo tutti i vostri bambini. Benissimo. Io ora non voglio stare a sindacare se fosse un missile russo, come dicono gli ucraini, oppure un missile difensivo ucraino in ricaduta, come dicono i russi. Non è questo il punto. Ammettiamo pure che sia stato un missile russo. Io a questo punto vorrei fare una domanda ai direttori di questi giornali e a tutti i direttori di giornali e di Tg che hanno aperto scandalizzati con questa notizia. È una domanda semplice semplice. Avete mai provato a camminare per 10 chilometri di fila? Immagino qualcuno magari sì, ma la maggioranza di voi sicuramente no. 10 chilometri sono tanti. Ci vogliono più di due ore a piedi senza mai fermarsi per percorrerli tutti. Ebbene, cari direttori, provate a immaginare di uscire da casa vostra e di avere davanti una bella strada dritta lunga 10 chilometri. Incamminatevi con passo normale e percorretela tutta. E immaginate che mentre camminate, ad ogni metro che fate, ad ogni passo che fate, ci sia accanto a voi un bambino morto. Un passo, un bambino morto. Un altro passo, un altro bambino morto. Così avanti per 10 chilometri, senza interruzione. Voi camminate per oltre due ore e ogni passo che fate vedete un bambino morto steso accanto a voi. Questi sono tutti i bambini che ha ucciso Israele sotto i bombardamenti negli ultimi sei mesi. Almeno 10.000 a essere conservativi, perché queste sono le cifre ufficiali. Poi ci sono tutti quelli che sono ancora sepolti sotto le macerie, che non verranno mai più trovati. E tutti quelli che stanno morendo e moriranno per malattie, malnutrizione, mancanza di medicinali, eccetera. Ma diciamo pure che siano solo 10.000 per fare cifra tonda. Fatevela mentalmente questa passeggiata di 10 chilometri. Guardate in faccia ogni bambino morto, dilaniato dalle bombe israeliane. Poi tornate in redazione e scrivete un bell'articolo, che metterete naturalmente in prima pagina, nel quale ci spiegate perché per i bambini palestinesi morti non abbiate mai sfoderato un milionesimo dell'orrore e dello sdegno che avete espresso ieri per i bambini ucraini morti. Lo aspettiamo questo articolo. Scrivetelo, cari direttori. Siamo tutti curiosi di leggerlo.